Buongiorno a tutti, torniamo con le whitelist d'impero, eccoci qua, torniamo a fare le whitelist d'impero ragazzi, dopo due giorni di pausa, di mattina però questa volta perché non so pomeriggio non so se ho tempo, e vediamo un po' cosa facciamo, vediamo, ciao su Cosimo, il 2239, il tempo è scaduto, perfetto, lo sforziamo, facciamo che domanda, Ciao, sì ciao, ciao sono in live, è un problema se facciamo la whitelist in live, ok perfetto, vi raccomando avanti le parole console e le politiche di Twitch, E bene, visto che stai arrivando a 12 ore per il regolamento, giusto? Sì Ok, perfetto, mi parli un po' del tuo background allora, inizialmente? Che cosa ho fatto nel background? Il tuo background, cosa hai scritto, sì Niente, nel background ho scritto che ho una sorellina piccola, che il mio personaggio faceva il camionista, ma non aveva più voglia di fare il camionista, perciò ha cambiato città e ha voluto fare il criminale Questo è quello che ho scritto Va bene Bello figo bellissimo uno, ciao, buongiorno, sono un... Sono un... Sono un... Tocciuschi, grazie a lui follow Ok, scusami Ok, allora Iniziamo un po' Definizione di Rdm e Vdm Vdm è Random Deadmatch, quando uccide una persona per un altro motivo Vdm invece quando investe una persona Ok, giusto E... Definizione di metagame Metagame è prendere informazioni fuori dall'RP e metterle in ERP Mi fai degli esempi di metagame? In game oppure fuori dal gioco? Gli esempi di metagame Ok, prendere informazioni tipo dal Discord C'è il mio amico che mi chiama, vado da lui e lo prendo Mmm... Metagame C che cos'è? Metagame C è quando... Ti devo fare una definizione? Ah, sì Ok, in metagame C c'è una definizione di riconoscere dalla maschera Questo è un esempio, non è una definizione Ah, vabbè, una definizione per metagame C è quando... Praticamente tu vai a sfruttare delle mecc... No, delle meccaniche di gioco Quando vai a sfruttare che tu conosci la persona fuori dall'RP, ok? E la riconosci... Così? In ERP, sì È un metagame che viene solamente in ERP parlando, ok? Solo in ERP E oltre alla maschera, riconosce persone con la maschera Quale potrebbe essere un altro esempio? L'altro esempio di metagame? I C, sì E riconoscere un tizio che sta dentro una macchina Con i finestini oscurati oppure i finestini chiusi E come fai a riconoscere lo scusami? Dalla voce Dalla voce, ok E... va bene Mmm... Definizione di power game? È sfruttare delle meccaniche di gioco Mmm... Ho spuntato delle meccaniche di gioco, vuol dire giocare? Ehm... Fare le cose che non potessi mai fare una vita reale Ok... Ci sta meglio come definizione Ehm... Ehm... Fammi... Cinque esempi di power game Salire in una montagna con una macchina tipo la Lambo Ehm... Fare... Cinquecento metri a piedi senza stancarti Solo cinquecento? Ehm... Vabbè Due chilometri senza stancarti Ehm... Parlare sott'acqua Portare troppo cibo senza avere la borsa È usare i dispositivi sott'acqua Ok... Mi fai due esempi di... No, anzi no, questa no Ehm... Definizione di no fear Il C? Vabbè sempre il C Definizione di no fear Ehm... Quando... Grazie per il follow Er taglia Non valigli la tua vita È venuto Quando non... Quando non valigli la tua vita Quando non c'hai le emozioni Quando non simuli la paura piuttosto Eh, vabbè Pure quello È l'emozione appunto Ok... Quando non simuli la paura Un po' in situazione di pericolo Significa no fear Mi fai i cinque esempi di no fear? Quando ti pongo una persona addossa Tu mantieni paura Quando stai al ciglio di la strada Con le macchine che sfrecciano Senza avere paura Che ti investono Ehm... Essere al ciglio del palazzo Che basta Sei un po' troppo risultivo Un po' troppo... Lo dici un po' troppo veloce Come se non te ne fregassi niente Della whitelist Vabbè Devi essere più tranquilli Più calmo devi parlare Più specificare meglio le cose Non puoi dire È come se... Ci fai un palazzo Ehm... Ehm... Cambiare l'autostrada Se hai puntato a non fare niente Cioè, no Specifica meglio le cose Cioè, sei... Sei più... Più interessato a fare la whitelist Mmm... In azione free room Quanti poliziotti possono partecipare? In azione free room 14 poliziotti Ehm... Criminali? 8... 10, 10, 10 10, 8 10 Ehm... Ehm... Che tipi di armi si possono usare In azione free room? Solo pistole Solo pistole E i caschi? Sì Ok... No, i caschi non si possono usare Va bene Ehm... Mi fai un esempio di azione free room? Quale potrebbe essere? Ehm... Quando ingaggi una persona Tra gang Quando ingaggi tra gang Ehm... Ehm... Quando ingaggi No Grazie per il follo Redbox 434 Mi è venuto No Un altro esempio? Non lo so Beh, per esempio Un inseguimento della polizia Che termina la sparatoria Oppure uno scontro a fuoco Tra due fazioni criminali Magari durante... Magari un diverbio Grazie per il follo Fiasbrooks Mi è venuto sul canale Anche a Kfullolio Mi è venuto sul canale Grazie per il follo Ehm... Si possono usare Gli elicotteri In azione free room? In azione free room, sì E magari La polizia Durante una rapina in banca Può usare l'elicottero? Durante una rapina in banca? La polizia Per esempio Tanta rapina in banca Posso usarla? In tutte no Ma nella banca sì No In nessuna rapina Si può usare l'elicottero Neanche la polizia Ciao K Hola E taglio Sono Kyrox Ah, va bene Va bene Ehm Buongiorno Are Invece Invece Quali sono le zone rosse? I campi droga I campi droga In che senso? Praxi In che senso questo è il blacklistato? L'accolta del processo Sono tutte due zone rosse Dove si può sparare a vista L'accolta del processo Gli punti droga sono zone rosse Non lo so Spol Seppid O Spolgd Non so se li dovrebbero fare Le partner Non ho idea Ah, addirittura Mi ha detto che si può sparare a vista Ha detto Sì, però sarebbe meglio Se ingaggi Con una motivazione valida La polizia può sparare a vista? No Solo i criminali Ok E che regole ci stanno In zone rosse Speciale diciamo In che senso? Che regole ci stanno In generale Diciamo Nelle zone rosse Nelle zone rosse Ci stanno Tipo le regole Delle armi Quante armi si possono portare Oppure i caschi Oppure Le auto Che si devono portare Cosa hai detto? Le auto Che si devono portare No, prima Cosa hai detto? I caschi Oppure le armi Ma Che tipi di punti droga Ci stanno? I tipi di punti droga Allora Sono la marijuana Di bassa qualità Poi c'è la marijuana Di alta qualità Il crack Cocaina Eroina E No lo so Quanti sono in totale? In totale Sono Sono sbagli Quattro Quegli là Che ho detto Però non lo so Quanti ce ne sono No, sono sei in totale Va bene Mariana popolare Mariana popolare Mariana Metanvetamina Oppio Crack E cocaina E in quali di questi Si possono usare Le armi automatiche In quali questi I punti droga Solo nella cocaina No Ancora Ancora metanvetamina All'oppio Va bene Frax Passami in privato Se cosa Grazie per il follow NicoFN Vediamo il tuo canale Le zone arancioni Quali sono Sono le zone Semi-save zone No Sono le zone Assignate dal cartello Che vengono Assignate dalle fazioni Criminali Che devono proteggere Le loro zone Ok In che tipi di Gruppe criminali Vengono divise Le fazioni del server Vengono divise Dalle mafie E dalle gang E clan Ok Zone safe Quali sono? Sono l'ospedale Il barbiere Il negozio di vestiti I tatuaggi Maschere E parrucchiere La centrale polizia Quindi non è una zone safe È una semi-save zone E che significa? Che si può assaltare Tramite ticket E qual è un motivo valido Per assaltare la centrale? Il tuo capo Che sta per essere arrestato Beh Non per forza Ecco Non per forza In quanto comunque Non per forza Diciamo Per essere il capo Ti viene Se il tuo capo deve essere arrestato Quando tu Un compagno Viene fermo a gelato? Esatto Quando un tuo compagno Un membro Importante Non Tiamo bene Rischia l'ergastolo Rischia la ferma a gel Esatto Allora Beh Senti Com'è andata Quanta la vuoi Atelista? Prado a me è andata Potrebbe essere migliore In realtà Beh È andata un po' Così così Cioè Sei troppo insicuro Guarda Io ti devo rimandare Quindi Ti mando 24 ore Devi passare Tu regolamento Ad essere più sicuro Le risposte Che dai Ok? Va bene Buona giornata Ciao ciao Perfetto Ragazzi Allora Frax Ti ho anche risposto Frax Se guardi Ti ho anche risposto In privato Simmo 2 3 3 3 3 4 Questa farò Vai mi chiamo AKFC Simmo E adesso vediamo Un attimo Comunque Frax R6 Grazie per il follow Comunque non te l'ho ringraziato Prima quando me l'hai mandato Vediamo un po' Questo qua Mi è stato rimandato Per Deve ampliare il background Vediamo se l'ho ampliato Ok Sì Oh Ok Sì Scrivere gli obiettivi Ancora meglio Ciao 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 guarda Stavo ad un altro background E mancano gli obiettivi Mancano Ok ma magari Specifica meglio le cose Ok perché Sono un po' troppo generico Ok Magari una riga A due in più Per specificare meglio gli obiettivi Oltre magari Oltre gli obiettivi Magari i lavorativi Magari anche gli obiettivi Personali Che ha magari Sai E poi torna tra 5 minuti Ok A posto Ciao Scusate Adesso Ho smutato Ciao Doraemon Ho andato bene Doraemon Tom Michele Grazie per il follow Benvenuto Bene 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 C'è RealKillerTV Grazie per il follow Benvenuto Che mi raccontate ragazzi Tutto bene? Che mi dite? Che mi dite Chia I Hience Bar ** Application Oh sticcoloso danni ma le regole per farla guai sono a parte sapere il regolamento e sapere spiegare serve anche il proprio background del personaggio e posso trovare la scheda per strutturare il background del pc allora per fare un bg completo basta andare qua andare messaggi che attaccati e controllare la scaletta che mi hanno mandato 47 perché le fissa in continuazione franci perché le fissa andare qua trovate la scaletta e compilate il background seguendo la scaletta che viene scritta quando le cose qua obiettivi personaggio poi minimo 2000 caratteri metterne in età ogni 5 6 anni c'è stata l'assalto qua l'assalto no nessuno assalto felice andare a tv grazie per il follo e anche a fede 53 official benvenuti grazie per il follo perché ho fatto l'aguale tempo fa capo e mi controlla se sono il permaban please non lo so non ti vedo qua io vedo qua ti ho visto con il permabanto visto prima con l'accia col banno visto non so se per non so se per lo vanno vediamo qua vanno k ma di 5 giorni per no fear power game scato da stato c ma mi sa che devi di farlo la white list se non entri dal 12 del 1 mi sa che devi di farla comunque però l'anderox non è spesso nulla alla fine no ma c'è solo un land ex ok o la well è solo che non mi hanno tolto il bene sono riuscito ad entrare o la well è solo che non mi hanno tolto il bene è certo perché si è evitato il discord capisco non mi hanno tolto il bene è certo boh dipende ecco se è acquittato il discord non so è acquittato anche il discord a quanto pare perché se no non avrei saresti giallo soldeni qua fai rp la tua anima l'account creato un po 5 giorni fa ticchiati thomas grazie per il follow benvenuto mi sposto questo qua però muto un attimo eh ho paura sempre ciao dani si risento sono in live non è un problema ok e guarda e raccomando che fai rp tu allora faccio rp da due anni però avevo un altro account che se vuoi ti faccio vedere anche ora ok allora se hai un altro account direttamente ti dico vieni con un altro account in quanto il discord tuo è stato creato 5 giorni fa e non posso whitelistarti con un account di 5 giorni fa è bloccato l'account contatta l'assistenza di discord tutto quanto cerca di fartelo sbloccare io non posso whitelistarti ma c'ho l'email dove l'account l'hanno eliminato eh dato che c'hai l'email contatta quel contatto lì di discord per l'assistenza e l'ho già fatto ma siccome serve ho avuto la 2FA no? e ho perso i codici di backup e non sono più riuscito ad entrare e mi hanno detto l'unica soluzione ti crei un altro account e noi ti eliminiamo la cosa ti faccio la condizione io non posso farci nulla io non posso whitelistar un account creato 2 giorni fa 5 giorni fa quindi eh devi chiedere a qualcuno di più alto in grado di me perchè io non posso whitelistarti mi dispiace e come posso fare perchè c'è eh niente hai cercato di reclamare l'account vecchio eh non è già eliminato non posso farci nulla e allora in qualche modo dovresti riuscire a a ritrovarlo io non posso farci nulla Dani io non posso farci nulla non posso utilizzare un account creato da poco punto questa non è la mia decisione non è la mia scelta è la mia è una regola quindi non posso farci nulla non posso utilizzarti io allora e devo aspettare o cosa? cerca di capire un attimo questo account provaci e torna quando hai sistemato con questo account cerca di sistemare tutto si può sistemare non ti preoccupare eh ma dai non ci posso fare nulla mi dispiace Dani non posso farci nulla non c'è non posso poter starti sto account così nuovo ecco ehm boh non so cosa fare allora provaci un admin qualcosa e provaci in questo caso qui provaci però io non posso farci nulla e come faccio? cioè non posso scrivergli in privato e adesso me la vedo io un attimo di scrivere una cosa in privato un admin se no adesso vediamo un po' ehm fallo ti prego perchè eh massimo ho tornato qualche giorno e vediamo cioè se vuoi faccio vedere tutto nel ticket in caso ho tutte le prove di del coso del creatore di discord cioè ho il coso dell'email ehm non so una cosa complicata mi senti vedo un attimo di sentire un admin ehm vabbè mi vedi di cercare di fare qualcosa perchè ok cioè se vedi anche l'altro account non ho mai fatto la white list va bene allora ok ciao Dani ciao allora vediamo qua un po' di messaggi ma due giorni fa ho fatto la web e mi hanno allora stai spammando sto messaggio già la quarta volta non è che cioè lo leggo eh ho ma due giorni fa ho fatto la web e mi hanno detto che mi spetteranno e hanno detto che mi devo stare a meno un mese per le azioni legali se no mi tolgo la web e ma è vera sta cosa è certo che è vera se te lo dicono ehm ehm comunque road we road i tv non sono 25 un attimo sono sì quindi sono è è è Rieccomi Non sono 05 sono 02 Ma che vuol dire faccio rp da 25 anni Ma ancora io stavo al disco Da 25 anni Forse da quando aveva 25 anni Ho comunque 2 anni Ok rieccomi Non è bloccato E devi fare rp senza andare a fare azioni illegali Non è che Si vive di azioni illegali Vuoi fare anche semplice rp Sì ma è inutile che mi chiedi di fare la wildest Perché se non ti sposto Ho detto mettetemi in attesa E poi vi sposterò a caso Allora vediamo questo Ah comunque ragazzi vi follow a Un po' di gente Grazie per il follow a Nick066666 E a GG1926 E a Cutro Grazie per il follow E benvenuti sul canale E grazie per il follow anche a Matteo Sur Benvenuti sul canale Grazie per il follow a tutti quanti KILL9 KILL9 So paghiamo un po' Non ho dato 8 ore Selezioni illegali Non è illegale Se sembra il background Per la che l'ha copiato Un po' come quando esco dalla pool La gente non vuole fare azioni illegali Per 15 giorni E l'rp è bloccato Perché quasi tutti quelli che escono dalla pool Vanno a fare criminali Eh esatto Ma non è bloccato Semplicemente di fare Semplicemente dell'rp diverso Scusate io sono Kirox Prima visto che mi cercate Non è uscito il mio PG No no Certo è uscito Ci spostiamo Mi sa KILL9 Ok Facciamo qualche domanda Esatto Ho fatto rimanato ieri Alle 11.38 Ok Ciao KILL9 Sì ciao Sono in live È un problema Sono in live Però adesso facciamo la whitelist In live Ok Perfetto È ora di utilizzare le parole console E le politiche di Twitch Che quando Sì 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 Bene Fade In che senso In che senso Matasur Ciao Dari Mi chiede Sono da un'assistenza E non sono esposta È possibile ragazzi La mattina La gente dorme Quindi non so Se la per l'assistenza Si stanno tutti quanti Quindi Perfetto Inizia a parlare un po' Del tuo background Cosa vuoi fare nel server Tutto quanto Ok no Perché non ti sentivo più Allora comunque Mi parlo pieno del mio background Hai detto? Sì Sì Ok Quindi nel mio background Io ero Iniziato da piccola Correre con i kart Con Un kart regato Con il mio padre Poi E ho iniziato Vince un po' di campionari Quindi andavo abbastanza bene Poi un giorno Sono andato in un A fare diciamo Una gara Di quelle internazionali Fara in terza persona Per favore Ah ok Ah ok sì Quindi Questo Il mio personaggio È questo Macarletto Praticamente È andato a fare Una gara In Campionato GT3 Si chiama Un campionato importante Però poi purtroppo Ha avuto un incidente E da lì Ha smesso Nella fine Ha deciso di venire qua Per trovare fortuna Ok Che altro posso dire? Va bene Iniziamo un po' La definizione di RDM e VDM RDM è Random Deathmatch VDM è Vehicle Deathmatch Il primo Consiste Nell'ammazzare Una persona Senza un motivo RP Se mi dice Nell'ammazzare Lo sparo Senza un motivo VDM Invece Quando ammazzo Quattro Senza un motivo Con la macchina Ok E Rifinizione Di metagame Metagame Quando si usano Delle informazioni Prese dall'esterno Per E vengono usate In RP Quindi per esempio Se una rapina Io non so che sono Due poliziotti Non posso saperlo Perché non è regolamento Ma non posso saperlo Io in RP Ok Poi Metagame Questa giusto L'avevo chiesto Sì 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 Ok ma Mi fai altri esempi Di metagame Altri esempi Sì Per esempio Buongiorno Pica Per esempio Se riconosco Una persona Ammascherata Cosa Se riconosco Una persona Ammascherata Ok Magari Se tipo Ho visto Una persona Che fa qualcosa Su Su Twitch Per esempio Sì Io vado Da quello E ho preso Le informazioni Dal Da Twitch Se tipo C'è una persona Che voglio Ammazzare La trovo Su Twitch Che sta In Garage Centrale Per esempio Se vado Da quello Lo vado A ammazzare Io non potrei Saperlo Cal 3 Punta Grazie per il Follow Benvenuto Desinizione Di Power Game Power Game Quando Quando Si usano Delle Mxfire 7 Grazie per il Follow Benvenuto Ok Mi fai 5 esempi Di Power Game Ok 5 esempi Di Power Game Tipo Magari Scala della montagna Con Lamborghini La cosa Impossibile Oppure No K Non lo Conosco In 6 giorni Riesco A fare Guarda Crash Continua F Uffa E niente Peccato Per te Ripetiscomi L'ultimo Portare Più Del limite Di cibo Se non Si ha Il Giubbotto Lo zaino Ok Puoi per esempio Scalare una montagna a piedi Anche Correre se si ha una persona in braccio Perché comunque dobbiamo Pensare Va bene va bene Definizione di No Fear No Fear è quando non Non si simula la paura Quando non si simula la paura No Fear giusto? Esatto Giusto Let's me follow Lecce02 Benvenuto Nerd Chilling C'è Nerd Chilling Ehm Mi fai 5 esempi di No Fear? Per esempio Se Sono Trotto un rapimento E Inizio a sparare Oppure Ehm Volendo Anche se mi metto Tipo a spacciare Davanti Alla centrale polizia Una zona pericolosa Per Lo spaccio O tipo Andare in una zona rossa Senza Senza la maschera Vabbè Quello non è che Per forza Della maschera Eh Sì Beh no Per forza Oppure Se tipo Da ricercato Prendo e vado in questura Vabbè No Puoi anche comunque Consegnarti Puoi Cioè Vabbè Senza che mi voglio consegnare Prendo e vado L'ultimi due esempi Non mi sono Non mi sono piaciuti Gli ultimi due esempi No No Altri ne hai? Un esempio Fammi Un esempio In cui Il tuo personaggio Può fare No fear Quando Stata solo Quando per esempio Ci troviamo So su un ponte O su una zona Molto alta Tipo ci troviamo Su un dirupo E quando dovresti avere paura Scusami Su un ponte Nell'altezza Nell'altezza Vabbè Non tutti hanno paura Dall'altezza Però comunque In che occasione Dovresti avere paura? Sempre Su un ponte Cioè io non ho paura Di andare su un ponte Ma in che occasione Avrei paura Di andare su un ponte? Stato sul Come si chiama? Non viene il nome No Sul dirupo Non mi sei troppo gentile Io nella UL Mi hanno chiesto 5 simpi Non fear Senza Mi innacce Altezza E power game 5 simpi Senza veicoli Non ricordo cos'altro F Per te Eh? Sul bordo? Sul bordo Ok giusto Giusto Questa cosa è giusta Però c'è avuto un po' troppo Per raggiungo Per arrivarci Eh Non mi veniva il nome Scusami Ehm Direzione di Firum Quanti polisiotti Quanti possono partecipare? Nelle? Non ho capito Nelle azioni Firum Quanti poliziotti Possono partecipare? Ehm Oddio Che non era C'era Come fossero 10 Non mi ricordo Dimmi che oggi ci sei Ti prego Non lo so 10? No 14 poliziotti 15 e 10 criminali Che tipi di armi Si possono usare? Sempre in Azione Firuma Posso usare Tutte le armi Comunque Perché non c'è Tutte le armi Dici? Eh Sì Pistole SMG No Solo pistole Solo pistole Grazie Grazie È vero Mi sono stati indicato Di fare stimare lo schermo Ma no Non è obbligatorio C'era il killer Non è obbligatorio Io sto dicendo Che quello che succede Magari a parte Devevo Adesso Fai a me Da 1-2 anni Ma è odio È odio che sento Sì guarda I caschi L'elicottero Si può usare In azione Firuma Quello sì Ok giusto E il poliziotto Una polizia Per esempio La polizia Può usare L'elicottero In una rapina In una rapina Si può usarlo No L'elicottero Non si può usare In rapina E niente Sì E invece Il medico Può compiere azioni illegali? No In realtà Si può compiere azioni illegali Ma solo fuori servizio Ma quando è fuori Fuori servizio Esatto Il pixel tv Grazie per il follow Uè Dani Uè 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 Buongiorno Buongiorno Ai 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 Giacomo è il ninja Grazie per il follow Benvenuto E Il medico Può essere armato? No Però può usare Solamente un taser E quindi Si che è armato Si è armato Solo un taser Ok I poliziotti Si possono lutare? No Cioè Si possono lutare Solamente in caso di Per togliere la radio In caso di tipo Perquisizio No Come si dice Blitz Che senso Beh quando c'è Un blitz Per acquisire una casa Per esempio Una casa mafia In quel caso Possiamo togliere lì Tipo il gps O la radio Solo un blitz A casa mafia Perché? Cosim 05 Grazie per il follow Guarda killer Ti dico una cosa Non ci siamo proprio Con le domande O la whitelist Non ci siamo proprio Purtroppo ti devo rimandare Ti rimando 24 ore Torni Ma mi ha quitato la whitelist Mi ha quitato Ma mi ha quitato la whitelist Grazie per il follow A capo 47127 E a nickgod32 Grazie per il follow Entrambi ragazzi Ma ho quitato la whitelist Regolamento Facciamo che lo facciamo così Cinque giorni 5 giorni Più Quitto Dalla whitelist E va a fabbrodo Allora Io abbasserei un po' L'alert Di follow Eh regà Non è che è l'alert Di follow Più che altro Non so perché vi sentite a voi Basso A me il microfono Me lo sentite basso Adesso lo alzo un po' E poi Sentite basso il microfono Prima di tutto Infatti impostazioni audio Microfono Proprietà il microfono E anche al 90% Ah what Anche al 90% Al 100% Ce l'ho Non so perché 95 Mettiamo Microfono Samsung Meteor Mic Prova 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 Vabbè Però anche E no L'alert Sta Non è che sta Molto alto Sennò poi Non si dirà Quelli della whitelist Questo è il problema Grazie a Tave00000 Grazie per il follow E anche Zeraleone0 Venuti sul canale Ehm Ehm Eh K Per il Faccio Per il fatto La tua whitelist È un po' Un problema Perché tu Dovesi essere sbannato Ma tu non hai neanche Più i ruoli Whitelist Quindi quello Mi sa che Mi sa che devi rifare La whitelist Sai Ha proprio quittato Il discord Regà Cioè Dani contare Profilo di killer Premi sulla Sì sì Ha proprio quittato Il disco Ragazzi Killer Ha quittato Il discord Ciao Il polinomagix Ciao Buongiorno Sì Il L'alert La potenza Sì Da me Sto usando Streamlabs L'alert È proprio Inserito Su Streamlabs Quindi Non è solo Vedere Un attimo Dopo Grazie per il follow Ma Ma Sono Un Bambino Bello E Ha il Panino Magix Grazie per Entrambi Grazie per Lost Sono Bambino Bello Grazie Mille Per Lost Grazie Se spariscono I vestiti Ne guardaroba Devi aspettare Il riavvio E senza cambiarti I miei vestiti Solo così Si fixa Perché Sennò Altrimenti Poi Si parca Tutto Quindi Attenzione A queste cose Questo è il background Cortissimo Lo spostiamo Ciao Ciao Guarda Devi ampliare Il background Che è molto Corto Ok Eh no 2000 caratteri Sono il minimo Ok Eh Invelo di quello Che riesci E torno Ok Basta che Non copi Il background Ma Se vuoi farlo Con un amico Non è un problema Però Devi copiarlo A posto Ciao Ok Madonna La chat Sta scorrendo Un po' troppo Allora Io Raspettavo 5 ore In un attesa Guarda senza essere Spostato F Comunque devi fare La guaglia Ho un amico Che è stato bannato E gli hanno fatto Rifare Sì Tante persone Capita Perché alcuni Sono gianni Quelli gialli Sono quelli nuovi Quelli che hanno Il ruolo Cittadini Impero Farò presentare La schermo Per la guaglia No Non è obbligatorio Da lì Ha fatto il bando Per entrare in polizia Mi è stato citato Ha fatto il colloquio E se era Bene Va bene Bene Mi hanno tolto La guaglia Perché sono stato Bannato E non Vediamo un attimo Eh lo so Ma non hai più Neanche l'account Non hai più Non l'ho white listed Perché forse È qui Nato il disco O lo ti hanno Bannato Non lo so Non ho tolti Loro Non ho idea Per questo Il background È corto L'ho sposto Ciao cobra Cobra Mi senti Cobra Sei mutato Mi senti Sì Guarda Devi ampliare Il background Che è troppo corto Deve essere Più lungo Di 2000 caratteri Bene A posto Ci vediamo dopo No Non ti preoccupare Dopo poi comunque Di tornare a farlo Ok Grazie mille Allora dopo Ciao Come si Come non Come non fare La guaglia Ti sei fatto Qui ti invio Sì Alcune volte Ragazzi Non sentirete Le persone Perché tipo Alcune le sposto Le tengo mutate La live Appunto Per non chiedere Se la solita volta È un problema Per la live Tanto si deve Rimandarli Così Per il background Inutile Che li sentite Fate presentare Non è obbligatorio New music Non facciamo presentare Il foglio Non ti preoccupare Ok ragazzi Non ci sto più dietro Alla chat Un attimo Riscrivete le cose Se sono cose importanti Perché ho perso il conto Un attimo Dei messaggi Perfetto Un attimo Perfetto Ah no Kappa Tu non puoi andare In assistenza Perché tu non hai Proprio più Il Tu non hai proprio Più Non hai proprio Ma tu ne avevo Mandato più Mai messi un messaggio Kappa Pol punto Tu non hai più I ruoli White listed Vedi Non hai più Il ruolo White listed Adesso C'è la Atesa White list C'è la Impair Warn 1 Warn 2 E BAN Per questo Devi presentarti In attesa White list E devi Rifare La White list K Guarda Il Panina Magix Tu Ti presenti In attesa White list E ci provi Se più vuoi Però Non penso Che cambi Molto Se ti era rimanato Qualche giorno Fa Sai Se è bianca È bianca Esatto Come dice Ertaglia Cioè Basta vedere Comunque Basta provarci Grazie per il follo Ziole90 Benvenuto Buongiorno Perfetto Un po' Di musica Ma io se Ho 16 Voce bianca Cosa In che senso 16 Voce bianca Non ho capito C'era il killer Voce bianca Tave significa Che sei Non hai la voce Sviluppata Ancora Matteo Io ho fatto il passaggio Su annunci Sponsor Ho mostrato Anche tutti i ticket Ma non c'è Lo stavo Perché me la ricompensa E beh Quello di aspettare Che ti spostino loro Che ti dicono Di assistenza Loro Non ti preoccupare Che ti sposteranno Tra un po' Può avere anche 25 anni Di avere la voce bianca Si Può essere Ma la vedo dura Un 25 anni Con la voce bianca Pedro e Pedretti Grazie per il follow Benvenuto Però non è partito Non è partito L'alert Come mai Boh Ho avuto prima Forse Siamo 25 anni Povera voce bianca Ma mai Quella di bambino Esatto Ragazzi Cioè È sempre comunque In base All'età Cioè Se io vedo che un sericene C'è la voce bianca Non lo wet list Sono 25 anni C'è la voce bianca Comunque Si capisce Se è una voce bianca Da 25 anni E una voce bianca Da bambino Cioè Mi hanno detto Che è bannabile Se impero Se hai il plugin Per vedere le stanze nascoste Senza leggerle O accederci Mi hanno detto Che è bannabile Da impero Se hai il plugin Per vedere le stanze nascoste Senza leggerle O accederci Tipo questo Che ho io No io ce l'ho Perché Ce l'ho sempre Comunque Era disattivo Disattivo Comunque Io lo farò UL Ma non ho avuto ancora Tempo di verificare Il BG Eh allora Cambia E poi torna Ma sai Giacomo Che l'ho notato Anche io C'è C'è molta gente bianca La voce bianca Sì Infatti Li stiamo bannando Anche tanti Devo dire Perché voce bianca Infatti che entrano Facciamoci questo Che non è compilato nulla Però muto la live Che ho paura Ciao Ciao Mi senti Sei mutato Mi senti Mi senti Mi senti Uno Due Tre Eh Mi senti Quanti anni hai Eh ma Senza Rolli Whitelist La vedo Dora Ma Tu vuoi fare La whitelist Va bene Allora Niente Ciao Allora Ciao Ragazzi Che cosa particolare Che è piena Sucessa Cioè Stai pensato Dicendo No Mi è scliccato Devo andare In attesa Assistenza In attesa Whitelist Ok ma Senza L'uoli Whitelisted Non puoi andare In assistenza Eh Vabbè Niente No Non devo fare La whitelist No Nulla 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 Arrivederci Ciao Ma what Ho detto What Comunque Cosa Cosa Dimigratamente Rimandato Di ampliare Background PG Ampliare Background Vuol dire Che tu Se guardi Qua Il background C'è specificato Che deve essere Minimo Di 2000 Caratteri Se tu Non rispetti La richiesta Qui Il background È troppo corto Non puoi fare La whitelist Danio Se vengo adesso Ho 15 anni E mi fai le domande E Dani Dipende Dalla tua voce Se hai la voce Bianca Non posso Fartela Comunque Grazie per il follow A Dani 123456646 E a White Yt E a Checche PvP Grazie per il follow Tutti e tre E benvenuti Buon amico Ho 15 anni Gioco su Van Questi hanno preso Perché ha una voce Sviluppata E ora passa Tosso impero E lo hanno Preso E infatti Vedi che Ragazzi C'è Dipende sempre Dalla vostra voce Se volete Fare la whitelist Oppure no Se è bravo A fare whitelist Chiedi tante cose Guarda Bravo Chiede tante cose Non ci vedo Molte correlazioni Comunque Chiedo le cose giuste E non lo so Se sono bravo Dovete valutarmi voi Per essere vera Abbastanza grossa Mi ha fatto tante domande E ti faccio le domande giuste Dani Se rispetti Prima il bel grano E a tutto E a tal Io sono su impero Ho 13 anni Ma la voce sviluppata Comunque Come 13 anni Matteo Comunque Pine and white Duny best E addirittura Ragazzi Ragazzi Un attimo C'è poca gente Nate da whitelist Vediamo un po' Se sono da whitelistare Oppure no Allora Sul fatto di GTA RP Penso che tra due anni Andrà comunque Perché tanto ragazzi GTA RP È nato Cioè È nato Tanti anni fa È nato Un po' Di anni fa E Ha continuato Comunque Andare avanti Più che altro Col periodo Covid È ampliato tantissimo Ciao Fii Sabai Ma mai Su impero Si sentono persone Che hanno una voce Molto bianca Oppure Oppure Se hanno una voce Bianca Vengono tolte La whitelistare E occupate Se entrano per sbaglio Così vengono tolte Posa chiedi Se il background Può leggere chiunque O solo lo staff Il background Lo può leggere chiunque Penso La senza background Basta vedere qua Background PG Si lo leggono tutti Perché devono rinviarlo Anche quelli che magari Fanno il wipe Ho scritto D'anarmi Per il fatto dell'account Va bene Fai Non è nato Come Fm Ma come San Andreas Allplay Allora Innanzitutto Nacqua GTA 5 Ok Poi Con GTA 5 Si è voluto fare Fm Anche oltre Alla prima Che c'era prima Perché mi piacere San Andreas Rollplay Poi dopo Non porto avanti Anche il Allora Diciamo che Nasce tutto Da Arma 3 Partiamo dal fatto Che nasce tutto Con Arma 3 L'RP Su questi giochi Nasce con Arma 3 E infatti E infatti Nel momento in cui Nacqua Fm Tante persone Giocanti Su Arma 3 Si trasferirono Su 5m Conosce di tanti Che giocano Giocato Su Arma 3 E 5m Andrà finché Ci sarà GTA 5 Quando può uscire A GTA 6 Come è successo Con Red M Creeranno Il 5m Il 6m Creeranno Come so Si dai Te lo assicuro Che cose Normali Classiche Mi hanno Chiesto Se i casi Power Gaming Senza quanto C'è La minoria Comunque L'ho saputo E buono Buono Chissera Mai 6m E' quello Che mi chiedo Anch'io 6m Boh Il My Wipe Quando c'è Boh Non lo sappiamo Simone Nessuno sa Quando c'è Il Wipe Lo saprà Solo Ninjo Il giorno Qui Lo deciderà Lui Se dovete sapere Quando sarà Il Wipe Dovete solamente Aspettare Che Ninjo Dica Domani Ci sarà Il Wipe Come è successo Con lo scorso Oltretutto Dani anche su World of Warcraft C'era un play simile Si ma World of Warcraft E' un gioco Un po' Più vecchio Si Nel 2015 Si fu anche Prima di rp Su minecraft Io infatti Seguivo Youtuber Che facevano Rp su minecraft Filuts game Dani Mi hanno detto Che tornare tra un mese Che faccio Faccio Di solito Tra un mese Perché mi cambierà la voce Oddio Tra un mese Forse Indicativamente Poi dopo Vediamo C'era il kill E' stato tipo male Che Nel minimo Però 18 anni 18 anni No 17 anni L'età L'impero Minima Se l'ademi non ti rispondo Non puoi farci nulla Fai Ora va di modo Redhead Con quella specie di Femm In realtà Redhead Ancora non va Molto Molto Se tu guardi Adesso La lista Di Femm Impero Conta Quanti Tanti Player Adesso Guardiamo La lista C'è Femm Femm Server In questo momento Se guarda Su CFX Abbiamo In Italia Parlando In Italia Attualmente In Italia Abbiamo Col server Italiano Con più Player Sono 127 Player Su Lemon City 105 Su Italian Free Home 102 Su Impero Ok 102 Su Impero Alla mattina Se io guardo Redhead Server Attualmente Su Redhead Redhead In Italia Abbiamo 1 2 3 4 Server 5 server Abbiamo E quello Con più Player Ne ha 9 Attualmente Quindi Redhead Redhead Non è che Vada Molto Bene Come Femm Devo Dire Redhead Se tu renta qualche mese con questo account Fai e si risolve il problema Il pixel tv Ma c'è da dire che Impero ha fatto 100 player dopo le 1 di notte Ovvio Cioè io ragazzi Ieri dico Questa notte ho quintato verso le Ho quintato verso le 2 C'erano comunque 300-400 player Cioè comunque Quindi la gente gioca molto Anche su Impero Ieri sera Su Impero Verso le 23 C'erano 560 player Dani È file e vuole Sì Un attimo No dai Riximo no Vediamo questo Ah ragazzi 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 Adesso vi follow a Serial A Serial Qua Card 80 Terebbe venuto sul canale Esatto Giochiamo quasi tutti di notte Che alla mattina dormiamo tutti Quindi incredibile Ti sei mai donato i soldi in game Che significa Pedro 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 Pedretti Eh Picca Tu devi studiare No ragazzi No ragazzi Non posso mica Givarmi soldi Ma a parte che i miei poteri Non mi permettono di givare soldi Ragazzi E poi comunque Perché dovrei Givarmeli In che senso dovrebbe Givarsi soldi Zio Cammello Grazie per la sub Ma grazie mille Zio Cammello Grazie Grazie mille Buongiorno Comunque Leximo Dai Non scherzare Che ieri Stavamo Armando Un po' I polli Ragazzi Ci sono i 3 yarder Quello Non lo toglie nessuno Però non tutti Sono 3 yarder Se la Serial card Serial card Serial card Ecco qua Quanti anni hai Io c'ho 19 anni Buongiorno Buongiorno Cammello Bambosate 5-4 Grazie per il follow Anche a te Le pc Servono Adesso faccio le WL Basta 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 Ragazzi Questo cosa fa Artaglia L'ha annunciato bene Il tuo Mi ha dato uno Deve nuovamente Abbiare il BG Madonna Ma quanto è che non torna A fare la White Questo Vediamo questo Qua Ragazzi Oh Mi vuole Oh Pat Grazie per la Sub Grazie mille Grazie mille Per la Sub Anche a te Pat Mamma mia Grazie mille E niente E niente Pica Io ho 16 anni La voce bianca Tra un mese Pensi mi cambierà Oddio Ragazzi Dobbiamo fare delle Mott Troviamo un grafico Che me le possa fare Pat Qualcuno che ne sappia fare Pat Brunchyx54 Grazie per il follow Ragazzi la voce cambia A seconda di 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 Come siete voi Non c'è Vedi Pat Guarda Pat Che usa le mott Di qualcun altro In giro Perché non ce li ho io No Infatti devo farle fare Chiederò Troverò qualcuno Che me le possa fare Che pensi Le persone Che si fanno Givare le WL Oddio Penso che Siano delle persone Che cerchino di No Non penso Brute cose Comunque no Ragazzi Dunque chi sappia fare Delle Mott Mi scrive in privato Io cerco Qualcuno Mi sappia fare Perché il mio grafico Cioè un mio amico Che dovrebbe essere Quello Con cui ho il canale Youtube Ok Non mi caga più Quindi Adesso Inizierò A cercare C'è qualcun altro Che mi faccia Le Le Mott Chi si sa Che fare le Mott Gratuite Esatto No pica Vabbè Comunque Eh addirittura Cammello Grazie Pica L'avevi chiesto Grazie mille Cammello Sei troppo Gentile L'ho scammato E niente Vica L'hai chiesto E ti è stato dato Adesso Adesso faccio Le UL Dai Niente Preoccupare Che moto Avevi in mente Eh Più l'altro Ve l'ho portata Una cosa Che si è Posasse Su di me Quindi Magari Non so Ecco Adesso Poi magari Facciamo Partire L'hyptrain Eh Vediamo Comunque Dopo Vi devo confrontare Un attimo Con qualcuno Per Sistemare un po' Meglio il canale Perché Perché c'è Ma mancano Delle cose STS live Che significa Ma boh Facciamo qualche Whites Ragazzi Perché Adesso Se no Poi perdiamo Troppo tempo E Si accumula La gente In attesa Come faccio A vedere Se il mio Background O il mio Caratteri Lo prendi E lo Sposti E lo Sposti Su Copy E lo metti Su Su inter Cerchi Contacaratteri Punto It E di Contacaratteri Un sito E di Contacaratteri Ciao Winx Buongiorno Comunque Ho letto Ho letto Gambello Grazie mille Veramente Ci vediamo Va bene Va bene Poi dopo Mi Mi Confronto Con qualcuno In Italia Per fare Ste cose Ste comandi Di cose Così Così Dopo Devo chiedere A qualcuno Che sappia Usare bene Twitch Queste cose Qua Così mi Mi Tutano Attivo Capire Bene I Comandi Da Inserire Le cose Utili Per Live Tutto Tanto Avendo Iniziato Diciamo Essenzialmente Ho iniziato A streamare Da fine Luglio Cioè Io Da 19 Giorni Che Streamo Da Niz Primi Agosto Ragazzi Che Streamo Ufficialmente Quindi Questo È Il Fare Un attimo Le cose Di Twitch Che Mi Aiuti Un attimo A capire Bene Come Funziona Un po La Roba Quindi Oggi Domani Massimo Felix TV Grazie Per Il Follow Avere Se Nel Background Mette Cosa Tipo Un Lavoro E Poi Come Faccio Poi Ne Faccio Vabbè Dipende Comunque Ragazzi Guardate Che Voi Tete Scrivere Gli Obiettivi Che Avete In Mente Nel Background Ho già scaricato Vediamo un po Qua Vediamo un po Questo Background Qua Ma io non capisco Sto Background Qua Perché Adesso L'ho Sposto Ciao Ciao Mi senti Ciao Ti sento Sì Ciao Guarda Adesso Guarda Tu Background Ma Tu Dove Nasci Nel Tu Background In Sicilia Non c'è scritto Nasce Il Ah Si Viene Dalla Sicilia C'è scritto Ok Perfetto Non è solo Letto Non ho letto Nasce Il Dove Non l'ho Visto E Però Noto Anche Comunque Che Come C'è scritto Nella Scaletta Il Background Devi Signare Gli Obiettivi Del Tuo Personaggio Il Tuo Futuro Una Previsione Del Futuro Sull' Impero Ma Tu Non Hai Specificato Quando E Come Forse Ho laggato Non ti ho sentito No Tu Stavo Notando Nel tuo Background Che Manca La parte In cui Ti trasferisci In questa Città Nuova E Cosa Vuoi fare In questa Città Nuova Capito Ma Dove L'hai scritto No Hai in mente Di sventare Le bande Criminali Non è Scritto Che Vuoi Trasferirti Non Leggo Dove Ti Stai Trasferito Cioè Dove L'hai scritto Forse Hai Santato Una Parte Ti Si Dimenticato Di Una Parte Forse Perché Non Leggo Una Parte In cui Ti Trasferisci Infatti Signora Si Se Nostra Parte Qua Finale Se Nell'obiettivo E Tutto E Poi Dopo Torna Va bene Va bene A dopo Allora Perfetto Bestia Ciao Pecaize Pecaize Aize Aize Non so come si dice Inoltre Non lo capisco Grazie del follo Comunque Sposta il pandino Un attimo Il pandino L'ha spostato Questa è la prima persona Che ho spostato Oggi Il pandino Questo qua Non ha compilato nulla No L'ha compilato Vediamo un po' qua Poi rapida 6 anni Su D&D E su Femme Da 1-2 Anni Vediamo un po' Quanti caratteri Ha fatto Pandino Siciliano Ora no Perfetto Oh mamma mia Andatevi a bere un attimo Che non ho più Vediamo sto background Andiamo a spostare sto qua Perché è nuovo Ragazzi Fatemi leggere il background Un attimo Grazie del follo Brigo04 Benvenuto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Questo qua è un background Fatto bene Circa Ma manca un finale Adesso vediamo un attimo Perché non è Completamente finale Manca Va bene Dopo vediamo Lo facciamo Se mi sposto questo Vediamo un po' Ciao Ciao Buongiorno Sono in live È un problema? Ok Smuto Mi raccomando Con le parole Allora Vedo qua che hai fatto il background Vedo che è un bel background Vedo che è strutturato bene Però il finale Non lo vedo un attimo Molto completo Ok Dopo che ha avuto gli studi Il liceo E la casa E i suoi amici E cominciano La vita Dello santo Stanno sapendo cosa fare Ma tornare alla sua passione Della guida La passione E la guida La passione E la guida Ok Tu ti trasferisci Sullo santo Spero qua Insieme alla depressione Tutto Ti sei trasferito A nuova città Per incominciare a capo No? Giusto? Sì Ok Però Non mi specifichi Cosa vuoi fare Nel server La parte finale L'obiettivo Del tuo personaggio Pensavo che L'abbiamo fatto Ok Forse magari Non lo vedo io No vabbè Il tuo valore È di Di fare le gare Tipo candestine Alla fine Ok Tu hai scritto Tornare a fare La passione E la guida Non è specificato Cosa vuoi fare Nella nuova città Che tipo Magari che lavoro Vuoi fare Gli obiettivi Che vuoi raggiungere Ok Quindi specificare Ste cose E poi torno Ok Ok Va bene A posto Grazie Grazie La gente Non riesce mai A fare La parte finale Background È una cosa incredibile Grazie Per lo spam Dei link E grazie Per il follow A Fran V24 Benvenuto Ragazzi Sono Un po' stanco Devo stare sincero Di parlare E fare le whitelist Perché è stancante Fare le whitelist Grazie per il follow Grazie per il follow Cioè devo andare Cioè devo andare Anche a pranzare Che poi devo uscire Presto A giro Alle 13 Devo uscire Di casa Quindi Ho 45 45 minuti Devo anche uscire Ma guarda Air taglia Star easy No Cioè faccio Faccio la mia whitelist Però Bisogna vedere un attimo Cosa ha fatto Un po' Il background Se è completo Oppure no Andiamo un po' qua Allora Io già una cosa Che mi dà fastidio È il nome Già Ok Io raga Luca Pocchione Cioè Io lo rimando Per il nome Cioè A me non piacciono Sti nomi troll Se è sincero Quando li leggo Quando li noto Può capitare Che non li noto Però Luca Pocchione No Cioè raga Io non l'accetto Un nome che si chiama Luca Pocchione Io No Lo rimando Gli dico Torna con un nome decente Muccio Ciao Ciao Eh Ciao Guarda sono in live È un problema No No Nessun problema Ok Sì Volevo Volevo premettere Un paio di cose Se Può mutarla un attimo Sì Va bene Muto Mutata Mutata Allora Innanzitutto Prima di Adesso non ti farò Domande Perché Sì sì Va bene Comunque non ti farò Tante domande Devo solamente dirti Una cosa che mi ha dato Un po' fastidio Do dire leggere il tuo background Il nome Cioè È un nome Effettivamente troll Cioè Io Va bene tutto Però Luca Pocchione Cioè Capisci Ecco Cambialo E poi torna Ok E non so Però è un po' troll Capisci Cioè Luca Pocchione Adesso leggi velocemente Capito Come T'ho masturbato Per esempio Cioè capisci No no Vabbè Io I nomi che ho usato Nelle altre città Senza trollare Era Luca Pocchione Felice Mastronzo Eh Felice Mastronzo Guido piano No Guido piano Guido con l'auto Guido con l'auto Guido piano Sono un po' trollio Se li vedo Cerco di prevenire E di fermarli Quindi Guarda Sistema il nome E riguardi anche Magari un attimo Il background E assicurati Che se ne stai guardi Nella stanza Background PG Tra i messaggi fissati In alto C'è una scaletta Assicurati che il tuo background Rispetti la scaletta Poi ritorni White list E ti sposteranno Ok Assicurati che il background Sia fatto bene anche Ok non è fatto bene Ah devo cambiare il nome Diciamo Cambi nome Ok Cambi nome E poi dopo Controlli anche Ne approfitti Per controllare anche Il background Ok Domanda Perché se no Non capisco Il background Devo cambiarlo No Io No Te lo preannuncio Ok Che dopo Quando controlleranno Il tuo background Ti faranno Se c'è un qualche problema Ti rimanderanno di nuovo Quindi ti consiglio Di guardartelo anche adesso Si rispetta la scaletta Sì 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 Io ora Ora lo guardo subito Grazie Ok Comunque non era per trollare No 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 Certo Voglio precisarlo Va bene Cambio subito A posto Ciao Grazie Ciao 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 Raga Thomas Turbato Non è che sia un nome Chissà quanto Normale Comunque Grazie per il follow A Brooks Brooks04 Fabio BTVTV A Giorgio Siu E a Cronor Benvenuti sul canale Grazie per il follow Grazie per la visione Ragazzi io purtroppo Non posso Ragazzi se devo andare via Io dopo 5 minuti Devo staccare Sono rimasto qua Fatto lui Adesso che Voglio provare a farlo Alla fine ho visto Che ha questi problemi qua Quindi ragazzi Io non posso Ragazzi io intanto Vi saluto Vi ringrazio tanto Per essere qui con me Ragazzi Purtroppo oggi Devo lasciarvi Vi ringrazio tanto Per essere qui con me Ringrazio Zio Cammello Pat Tutti coloro che hanno messo La sub Hanno fatto la sub E che hanno donato la sub Guarda Mi hanno buttato Giusto alla fine Così non mi rompono Neanche le palle Quindi vi ringrazio Tanto per essere stati con me E ci vediamo Nella prossima Live Buona giornata a tutti E ciao Ciao a tutti ragazzi Ciao Vi lascio da Anzi vi hosto Da strash Vi lascio da strash Vi hosto da strash Ragazzi Così guardate Un po' strash E mi raccomando Ci vediamo Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.